Lui di nascosto Lui a carezza lo sguardo tuo, tu ti abbandoni al gioco suo e io tra di voi se non parlo mai ho visto già tutto quanto ed io tra di voi capisco che ormai la fine di tutto è qui. Oh no, non è niente, forse un po' di fatica, cosa vai a pensare? Al contrario, è stata una magnifica serata. Sì, una magnifica serata. Ed io tra di voi nascondo così l'angoscia che sento in me. Oh no, non è niente. Oh no, non è niente. Grazie.